ciao a tutti e benvenuti sul canale youtube di una vita testenzio.it qui potrete trovare i video delle nostre avventure in giro per italia e europa alla scoperta dei parchi divertimento le recensioni dei parchi stessi e i vlog non dimenticate di seguirci sui nostri social facebook instagram e twitter e naturalmente sul nostro sito ciao ciao